sa tutto, sa storie sa storie gli parte con la mano diretta ta, rub, apri guardate la faccia di lei guardate la faccia di Greta che sa che si deve fare la quarantena che vorrebbe tagliarsi la mano in quel momento ma mo l'hai detto e questa è la Merkel ministro degli interni, no? tedesco, che dice una volta bei momenti, bei momenti rapporti istituzionali allora mi saluto, anche qui vi voglio mettere un altro a Groland perché questo ha fatto molto adesso siamo diventati da oggi ci si saluta così, almeno in Francia o a Groland che ce soit au bureau dans les commerces de détail o ancora dans la rue personne ne sombra dans la psychose e la politesse demeure plus que jamais dans l'autre pays fa sta roba qua te fanno aiutare comunque diciamo siamo tutti un po' spaventati solo voi giornalisti magari un po' meno, no? queste nuove regole grazie a tutti grazie a tutti